Africa, Mani, Kati, San Lazzaro dei Borgundi, Mortara, casa madre. Benvenuti dalla casa del Signore, ringraziamo il Signore per questo istituto di vita consacrata che tanto bene ha fatto nelle nostre comunità. Grazie a tutti per cui sono presenti e che vogliono così testimoniare la loro gratitudine al Signore e anche sorelle della congregazione.